Buongiorno a tutti! Questa mattina abbiamo appena realizzato due tipi di articoli, quindi colgo l'occasione per far notare come si può abbinare due articoli diversi, quindi un visual, tipo un barrel up con le proprie grafiche, a un gadget, un gadget tipo, in questo caso, delle shopper. Quindi visual e gadget insieme rafforzano sicuramente il senso di appartenenza e veicolano proprio il vostro logo in maniera molto efficace, come ha fatto questa notte azienda di servizi. Quindi non importa essere produttori, non importa essere produttori di servizi, ma l'importante è veicolare in maniera coordinata, con i propri colori e soprattutto lasciare qualcosa in azienda, dove chi entra vede e lasciare qualcosa a chi entra e esce. Quindi in mano uno bello shopper, anche molto sostenibile, fatto molto bene in carta, stampa fronte e retro, per incidere la vostra presenza nel territorio. Grazie!